a chi faccio ascoltare prima la composizione mamma perché mamma mi dà diciamo cioè all'inizio mamma perché comunque mamma è la mamma nel senso che lei mi ha sempre mi ha portato per mano al conservatorio mi fece fare quando ero piccolo il provino al conservatorio e lo passai e lei come anche papà in realtà hanno sempre creduto in me sono due genitori fantastici visto che sono stati tirati in ballo i tuoi genitori a x factor hai detto che eri andato di nascosto qui immagino che se ne saranno accorti che guardi verranno verranno qui allora assolutamente no mio papà è impegnato a inseguire invece il suo disogno che che fa bene io sono un suo grande fan nel senso sono onorato di far parte della mia famiglia però lui sta con mia mamma dalla un'altra parte d'italia a fare le sue cose e mi sostengono col pensiero e per quanto riguarda sanremo in realtà all'inizio non glielo ho detto neanche questa volta perché avevo paura di preoccuparlo troppo dato che ho all'università io lunedì prossimo devo tornare assolutamente perché c'ho l'obbligo di frequenza a fine febbraio c'ho gli esami e se faccio un'altra azienda mi bocciano quindi non posso rimanere indietro grazie ragazzi studio communication e psychology in un'università americana a Roma per me io non potrei chiedere di più dalla vita nel senso che comunque la musica per me è ciò che mi fa star bene e mi piacerebbe utilizzarla come strumento per per far del bene e portare positività nel mio piccolo in un'università americana a Roma 110 e